È guerra totale tra Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco. Momenti di vera tensione, è orribile le parole pronunciate Si è da poco conclusa la settimana Filomonaco, un evento che ha avuto luogo nel capoluogo del Principato e che è stato organizzato da Charlotte Casiraghi con l'appoggio del Principe Alberto. Un momento di storia e di cultura, per un festival della filosofia che voleva essere un'occasione giusta per permettere a Charlotte di presentare a corte lo scrittore Nicolas Mathieu L'uomo con cui la principessa ha iniziato una relazione lo scorso gennaio dopo essersene perdutamente innamorata. Poco dopo aver lasciato il marito Dimitri Rassam. Una situazione che in realtà non è stata ben accolta da Carolina di Monaco, tanto che tra le due è scoppiata una tensione che sembra essere sempre più forte e al limite Di recente, c'è stato un ulteriore battibecco tra le due. Tanto che, tra gli appassionati, sono addirittura usciti di bocca le parole, è orribile Ecco che cos'è successo e il motivo della lite.Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco ai ferri corti, cosa sta succedendo? È partito tutto dal divorzio di Charlotte Casiraghi con il marito Dimitri Rassam, mai ufficializzato pubblicamente Una situazione che non è andata giù a Carolina di Monaco, che ancora non ha accettato né la fine del matrimonio né il fidanzamento con lo scrittore Nicolas Mathieu Anche perché la principessa e amica di Carol Bucquet, la ex suocera che non ha di certo gradito la decisione di metter fine al matrimonio per il semplice motivo di non trovare un punto d'incontro con la gente dell'ex compagno Ma non solo, perché in realtà la vera batosta sembra essere il nuovo fidanzato scelto da Charlotte? Decisamente diverso rispetto alla nobiltà che caratterizza Monte Carlo Con idee troppo di sinistra e che trova incompatibili con quello che è lo stile di vita della figlia Alla fine, lo scrittore non ha nemmeno partecipato al filomonaco, proprio per via di questa situazione ai ferri corti E a confermare la situazione di gelo tra madre e figlia ci ha pensato uno scatto che è stato pubblicato, riprente le due durante l'evento culturale con uno sguardo fisso e freddo L'espressione di Carolina è piuttosto eloquente, seria come Noon mai Così come Charlotte, scura in volto e che Noon degna sua madre di uno sguardo E lo hanno notato anche i fan, che sui social si sono riversati con commenti come Che faccia triste Charlotte? Non hanno un bel aspetto. Sembrano malati di depressione. Foto orribile